buongiorno buon pomeriggio bentornati o benvenuti sul canale oggi volevo fare anche se in ritardo il video del il meglio di marzo quella rubrica che mi piacerebbe fare avevo preso spunto da un video della bravissima michela di maio dopo averle chiesto il permesso di potermi ispirare a lei il mese scorso avevo iniziato marzo è passato velocemente è stato un mese per me molto pesante con qualche preoccupazione niente di particolare però una più una più una poi alla fine si accumulano tutte e sentivo questa pesantezza questa stanchezza mentale che poi si si riversa anche sul sul fisico quindi un po di problemi di salute piccole cose che però non mi facevano star bene non mi facevano stare tranquilla fortunatamente marzo è finito è iniziato anche aprile con ancora una scia una coda di questi problemi ma pian piano si sono risolti tutti e anche se non si risolvono non si può fare nient'altro che aspettare e cercare di vedere prima o poi la soluzione non sono problemi di salute per fortuna sono tante piccole cose che si accumulano e magari anche perché si esce dall'inverno si esce da un periodo almeno a me capita così soprattutto in queste stagioni che sono un po di transito verso verso l'estate mi capita spesso che arrivo che sono più stanca di quando magari io arrivo all'estate che devo iniziare le vacanze no ci sono un po tutte queste cose e quindi nulla ho tralasciato un po di cose però adesso ho raggruppato e ho pensato di così raggruppare insieme tutte le cose che mi hanno fatto stare bene comunque nel mese di marzo perché ce ne sono state tante e anche con cosa mi sono aiutata più o meno cose che magari a qualcuno potrebbero sembrare sciocche ma a me sono servite anche quelle per le palette occhi sono stata su tre palettine molto scamuzze molto tranquille una è questa che è la sunrise di bella oggi mi piace sempre tanto molto semplice con qualche matta un colore molto chiaro quasi rosa dei brillantinati non mi vengono neanche le parole ma vabbè sono davvero molto carini niente di pretenzioso come vedete luccicano però proprio vabbè questa non è una recensione delle paletti volevo proprio far vedere quello che ho utilizzato ma senza infamia senza lode alla mattina mi alzavo e quindi utilizzavo queste questa che è quella che ho comprato da action la fab factory elegant beauty questa vediamo se ci dice che colore è no questa mi ricordo che era una palette vegana con 9 colori qui c'è lo specchio i colori come vedete sono molto molto simili adesso ve li faccio vedere praticamente sono uguali però fa niente e questa è la terza c'è qualche bordeaux qualche marrone più scuro qualche shimmer però davvero sono palettine da tutti i giorni costano poco per quello che le uso io vanno benissimo e più di tanto non sono stata lì a diventare matta blush ho praticamente utilizzato solo questo che è un blush di essence molto carino andava bene per i miei trucchi giornalieri ero proprio anche stanca molto cioè mentalmente non riuscivo neanche a pensare e questa terra che ho utilizzato per contouring di kiko della collezione beauty essenzial la numero 02 mi piace tantissimo a un colore molto stratificabile non macchia queste polvere io le trovo meravigliose e questa ho utilizzato ma non sono queste le cose che mi hanno fatto star bene o meglio sì ma non soltanto queste allora di libri ho letto pochissimo ho letto un solo libro tra l'altro penso di averlo finito a fine febbraio a o inizio marzo ma non ve l'avevo ancora raccontato non ho ancora fatto la rubrica dei libri ed ho pensato di farlo rientrare qui tanto oggi è un momento di relax ci serve per star bene proprio soltanto una chiacchierata non sto facendo vedere nessun tipo di prodotto che ho acquistato vi faccio vedere quello con cui sono stata bene o comunque quello che mi ha fatto star bene allora questo libro mi ha emozionato mi ha stupito mi ha colpito è stato il libro che abbiamo scelto nel mese di febbraio per il gruppo di lettura poi io non sono stata bene e quindi non sono riuscita ad andare il libro è di fabio genovesi cadrò sognando di volare e io penso che dalla copertina possiate capire di cosa sta parlando un libro che mi ha stupito commosso nel profondo pur non essendo un amante del ciclismo perché qui ovviamente si parla del pirata il ciclismo l'ho vissuto da figlia con un papà che era veramente sfegatato di ciclismo pur non sapendo andare in bicicletta fino a prima di morire lui si guardava tutto il giro d'Italia tutto il giro di Francia e guardava tutte le tappe e guardava la sera le previsioni del tempo per capire se i ciclisti avessero trovato bello o avessero trovato brutto insomma sta cosa del ciclismo e a lui non è mai andato in bicicletta non era capace di andare in bicicletta ricordo che qui a Lecco è passata tante volte la tappa del giro d'Italia e mi ricordo ora io non ricordo chi fossero i Moser me lo ricordo perché c'era questa schiera di persone sulla strada infilate che battevano le mani Moser 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 mi ricordo il mio papà sfegatato tutto sudato e io ero emozionata per lui ma non è che capissi molto bene questa cosa anzi andare in bicicletta non è una cosa che mi piace tantissimo perché faccio proprio fatica però devo dire che il ciclismo è uno dei pochi sport che mi piace a differenza del calcio e eppur non conoscendolo non conoscendo le storie non conoscendo tutto quello che c'è dietro al giro d'Italia al giro di Francia a questi ciclisti a questi sportivi leggendo questo libro è secondo me un'emozione unica dalla prima all'ultima pagina penso sia uno dei pochissimi libri in cui io ho messo tantissimi memo perché ci sono delle frasi che sono davvero bellissime che mi hanno aiutato che mi hanno mi hanno fatto ridere mi hanno fatto piangere mi hanno fatto emozionare ora io non so se la storia raccontata in questo libro è una storia autobiografica ma è una storia bellissima e ve la leggo proprio dalla copertina hai presente quando la radio passa la canzone che ascoltavi sempre alle superiori e ti immaginavi nel futuro libero e felice di fare quello che volevi beh se a sentirla il cuore ti si stringe e alla fine devi cambiare stazione vuol dire che in quel futuro qualcosa non è andato come sognavi così è per Fabio che ha 24 anni e studia giurisprudenza la materia non le entusiasma per niente ma una serie di circostanze lo ha condotto lì e lui non ha avuto la forza di opporsi perciò procede stancamente fin quando siamo nel 1998 per evitare il servizio militare obbligatorio viene spedito in un ospizio per preti in cima ai monti qua il direttore è un ex missionario ottantenne rubido e lunatico che non esce dalla sua stanza perché non gli interessa più nulla e tratta male tutti tranne Gina una ragazza che si crede una gallina diversi come sono qualcosa in comune Fabio e Don Basagni ce l'hanno la passione per il ciclismo così iniziano a guardare insieme il Giro d'Italia e trovano in Marco Pantani l'incarnazione di un sogno un uomo coraggioso tormentato e solo che si confronta con campioni colossali che hanno il loro punto di forza nella prudenza e nel controllo della corsa Pantani invece non fa tanti calcoli lui da retta all'istinto e compie sforzi in mani che gli permettono di spostare il confine il terribile confine tra il possibile e l'impossibile tra quel che vorremmo fare e quel che si può grazie a questa meravigliosa follia Fabio e Don Basagni troveranno in sé un'audacia sepolta e metteranno in discussione l'esistenza solida e affidabile che ormai erano abituati a sopportare più ispirato che mai Fabio Genovesi torna a farci sognare con la sua scrittura unica che ci travolge e ci emoziona come un'onda impetuosa ci fa commuovere sorridere e poi ridere fino alle lacrime e ci racconta cosa vuol dire credere in qualcosa qualsiasi cosa che sia però magica e ci accenda spingendoci avanti o da qualsiasi parte senza progetti o direzioni già tracciate si rischia di cadere sì ma quando alla radio passeranno la canzone della nostra adolescenza allora cantando la squarciagola coi finestrini abbassati di sicuro voleremo mi viene da piangere già leggendo soltanto la copertina non so se l'ho letto in un momento particolare un libro che mi ha che mi ha davvero colpito nel profondo l'ho scritto anche lo scrittore e lo scrittore mi ha anche risposto guarda te io ve lo consiglio perché si parla di passione si parla di passione vera si parla di passione che va oltre il confine si parla di una passione che magari non ha neanche modo di esistere di credere in una persona di credere in qualcuno quando si è giovani si ha questa fortuna di credere nelle persone che queste persone ti cambino il mondo poi quando si diventa invece grandi ci si accorge che purtroppo non sempre è così ma questo libro è stato veramente una scoperta meravigliosa che io vi consiglio vi leggo due frasi che mi sono piaciute ma ce ne sono a migliaia perché le cose belle quando succedono è importante ma siccome non è che succedono così fitte è importante pure aspettarle pensare che arrivino e sentirsi già un po' bene anche se ci mettono un sacco anche se magari alla fine non arrivano nemmeno è vero quante volte noi siamo felici perché stiamo aspettando qualcosa perché stiamo attendendo qualcosa poi magari questa cosa non succede però nel frattempo siamo stati felici bellissima questa frase e poi ancora un'altra avevo trovato il portone chiuso essere rimasto fuori che fortuna pazzesca l'isdraiato sotto le stelle volevo rimanerci per sempre non era un lavoro ma poteva essere lo stesso la mia vita senza orologi senza percorsi e direzioni per sempre così gli occhi al cielo immortale bellissima e l'ultima perché poi se no vi leggo tutto il libro e non si può no avvocato no e questo va bene lo capirete dopo ormai è vinta lo so io e lo sai te lo sa Tonkov e anche Marco ha vinto ha vinto e alla fine l'ho sentito tremare nella voce nel petto molle contro il mio forse gli veniva da piangere non lo so e non volevo saperlo volevo solo restare così abbracciati nella stessa emozione la felicità per la felicità di qualcun altro che è la capacità più rara e preziosa del genere umano essere felici quando qualcun altro è felice anche questa che grande lezione che grande dono e niente come avete capito questo libro mi emoziona che è soltanto a leggere qualche riga quindi io ve lo consiglio è un libro meraviglioso adesso io lo restituirò alla biblioteca ma me lo comprerò perché questo è un libro che voglio rileggere e perché ci sono delle parti che mi voglio proprio appuntare che mi sono servite molto ripeto Fabio Genovesi cadrò sognando di volare Mondadori ma poi nell'info box che è quello spazio dove c'è scritto mostra altro perché giustamente qualche amica mi ha scritto ma dov'è l'info box ma che cos'è l'info box è quella righettina che se voi cliccate con scritto mostra altro vi scende una finestra dove voi potete trovare le informazioni che vogliamo condividere con voi in modo che ci sono magari delle notizie utili come magari il link il titolo di questo libro e questa è una delle cose più belle che mi è capitata tra fine marzo ma fine febbraio ma poi l'ho gustato nel mese di marzo altre due cose bellissime che ho vissuto è stato il concerto di Irene Grande io in blues Irene Grandi è una grandissima artista che ovviamente per l'età che ho ha fatto parte della mia gioventù penso di avere tre o quattro suoi cd ai tempi sapevo le sue canzoni a memoria quelle più famose le so ancora e abbiamo organizzato con delle amiche di andare a sentire appunto Irene Grandi eravamo solo donne è stata un'esperienza meravigliosa era da tantissimo che non andavo ad un concerto è stato un concerto da signore o da signori comunque da persone di una certa età perché eravamo seduti in un teatro in un auditorium però lei è stata capace di farci ballare battere le mani cantare gridare a squarciagola alcune sue canzoni è partita da dalla sua esperienza proprio di cantante di quando ho cominciato a cantare nei gruppi nei vari club nelle ballere e ispirandosi agli artisti a cui lei aveva fatto riferimento e che l'hanno aiutata a diventare l'artista che ha fatto proprio un escurso su un cammino da Pino Daniele e Lucio Battisti Mina Tracy Chapman bellissimi lì abbiamo cantato veramente che sono ritornata adolescente è stato un momento che mi ha fatto capire che bisogna andare a teatro bisogna sentire la musica dal vivo perché è un'altra emozione perché ti entra dentro perché te la senti perché vibra con te e insomma ascoltare la musica dal vero è davvero un'emozione unica e quindi mi sono riproposta veramente di andare più spesso a teatro o comunque a vedere i musical ma ci saranno ci saranno poi ve lo racconterò perché ho prenotato un musical domenica sette spose per sette fratelli non è il tempo di Natale ma ci vado con tutti Mattia Lucia Paolo e io ci siamo fatti il regalo di compleanno tutti insieme sarà a Milano e quindi niente c'è un'esperienza davvero che mi ha ricordato che è bello è bello poter partecipare a questi momenti di cultura musicale ma anche andare a teatro ad ascoltare un musical oppure uno spettacolo una recita quello che volete voi insomma l'emozione secondo me proprio dello spettacolo dal vivo è una cosa meravigliosa e poi comunque i reni grandi per me è stata una parte molto importante della mia adolescenza della mia gioventù l'ascolto tuttora e quindi è stato anche bello ripercorrere con lei anche dei pezzettini della mia vita e quindi anche questa cosa mi ha fatto veramente molto molto felice ma non uno ma ben due spettacoli sono andata ho regalato a Paolo per il nostro anniversario di febbraio ma siamo andati al 29 marzo a Milano al teatro lirico Giorgio Gaber a sentire Elio e le storie tese che faceva lo spettacolo ci vuole orecchio Elio canta e recita Enzo Iannacci e qui è stata una cosa meravigliosa a parte proprio l'arrivare a Milano andare noi abitiamo a Lecco Milano in macchina sono mezz'oretta 40 minuti abbiamo parcheggiato vicino a un collegio di Salesiani il collegio Salesiano che è una roba strepitosa bellissima bisogna anche andare a vederlo perché veramente quasi una città dalla grandezza veramente molto bello e poi con il tram siamo con il tram con il metro scusate siamo arrivati arrivati in piazza Duomo perché il teatro lirico Giorgio Gaber è proprio dietro all'università cattolica quindi arrivare di sera in piazza Duomo è sempre una cosa meravigliosa quando si dice che Milano è sempre Milano è proprio vera Milano è bellissima di giorno e di notte alla sera poi abbiamo visto lo spettacolo che è stato veramente uno spettacolo veramente veramente meraviglioso allora Elio lo si conosce per la sta grande maggioranza così proprio molto velocemente visivamente un po' come un comico un uomo pazzerello alcune volte dava l'impressione anche di essere un po' tontolotto e sappiamo che non è così sappiamo che è solo una facciata che è un personaggio che lui si è costruito ma davvero un artista tutto tondo ballerino cantante imitatore una cosa meravigliosa se dovesse capitare nelle vostre città andatelo a sentire perché è davvero un gran bello spettacolo con una band che accompagnava di ragazzi molto molto giovani ma che musicisti artisti davvero meravigliosi che bello che bello vedere che la musica è sempre e fa parte anche del mondo dei giovani io ho un marito musicista anche se non lo fa come professione ho un figlio che è stato musicista che suona molto bene il trombone anche gli altri due hanno fatto una scuola musicale ma vabbè per piacere e secondo me la musica prima di essere un lavoro deve essere piacere deve essere passione deve essere amore altrimenti non trasmetti nulla e che dire bravo bravo meraviglioso tanto ridere una voce strepitosa un'imitazione anche di annacci davvero molto molto in linea con il grandissimo iannacci che ovviamente è inimitabile e quindi anche questa è stata una riconferma anche nel mese in questo mese di marzo che effettivamente queste cose fanno bene fanno bene all'anima fanno bene al nostro cervello fanno bene al nostro cuore fanno bene perché ci fanno star bene con gli altri e quindi quest'anno sarà anche l'anno se riusciremo di poter partecipare magari un po' di più ai teatri a dei concerti insomma a tutte queste cose che ci aiutano a a crescere perché la musica fa star bene il teatro e la musica sono davvero è un'arte che ci aiuta ad essere delle persone più belle ma anche mi sono aiutata con degli incensi a me piacciono molto gli incensi ne ho di tutti i tipi bevo un pochettino perché sto parlando e ho una sete pazzesca in questo momento proprio ne stava bruciando uno adesso è finito come porta incenso io ho questi semplicissimi in legno e ho anche questo in ceramica che mi piace molto che ha due buchetti dove posso mettere due questo e ha Maria di questa marca di incensi che è la mia preferita la uso da tanti anni è l'incense du monde è diciamo prodotta cioè è made in Giappone ma viene viene commercializzata in Francia fino a qualche anno fa li trovavo e potevo acquistare dalla Francia e spedivano adesso i francesi non ce li spediscono più però ho trovato un'erboristeria qui nei dintorni di Lecco che li vende allo stesso prezzo di come li troverei online e mi piace anche perché almeno posso andare fisicamente e vedere le varie tipologie mi piacciono tantissimo sono secondo me molto profumati sono ovviamente tutti naturali 100% naturali mi aiutano a rilassarmi a concentrarmi a cambiare proprio per lo spirito dell'aria quando magari sono un po' ingrugnita pensierosa il profumo comunque su di me ha questo effetto e quindi se anche voi amate l'incensi questi ve li consiglio si trovano anche online in alcune parafarmacie o alcuni negozi biologici e ce ne sono di varie tipologie ci sono gli incensi da meditazione gli incensi per star bene negli ambienti di casa gli incensi per il benessere fisico e psitico ce ne sono davvero di tante di tante tipologie quelli che io ho sono per esempio paciuli e geranio poi ho cannella e miele che è buonissimo poi ho cannella e arancia la cannella c'è sempre perché è una spezia che mi piace molto anche in cucina paciuli e geranio questo ce l'abbiamo doppio addirittura e ce ne abbiamo forse un altro doppio uguale geranio e anice buono anche questo ce ne sono altri che hanno la confezione azzurra io ora non ricordo più se è il vetiver o un'altra un'altra profumazione che sono una cosa meravigliosa mi fanno sognare infatti quelli li compro e sono quelli che finisco prima perché mi piacciono tanto ma li finisco prima e poi ci sono sempre della stessa tipologia questi piccoli kit questo è per incenso per star bene per il benessere dove abbiamo l'incenso asperate che non ci vedo per la creatività per trovare l'equilibrio per il relax per la concentrazione per la meditazione e sono in queste confezioni molto piccoline e si possono provare vedete così sono tutti colorati molto carini e insieme c'era questa questa questo piattino adesso accendiamo uno di quelli azzurri mamma quanto è buono e dopo ce lo accendiamo perché non ho qua l'accendino e così liberiamo l'aria e ci rilassiamo e poi c'è sempre della stessa tipologia questi che sono invece per la casa quindi per la sala da pranzo per la camera per la cucina per il bagno per il salotto e per l'entrata molto molto carini sono anche belli per fare dei regali poi vi lascerò indicazioni degli articoli sotto e devo dire che anche questo mi aiuta così a togliere la pesantezza a rasserenare ma ovviamente per star bene non devo star bene soltanto di testa ma devo star bene anche di fisico e quindi da questo mese io ho deciso di non dimettermi a dieta dieta è una parola che non mi piace più di trovare benessere con un regime alimentare bilanciato io sono andata tante volte da una tante volte sono andata poi due volte da una nutrizionista che mi aveva aiutato bene a ritrovare il mio benessere psicofisico più che la mia forma perché la mia forma non la ritroverò più o comunque non la forma che ho in mente io ma mi interessa star bene e quindi ho ripreso in mano quella lista di ingredienti che è appunto una dieta bilanciata un regime alimentare bilanciato e con l'aiuto anche del sito Mela Rossa del quale mi sono avvalsa molte volte sempre comunque facendola vedere a mio medico sto cercando di stare un po' così sto cercando di rimettermi in linea in forma e sto cercando di andare a camminare sto cercando anche di fare magari qualche esercizio a casa molto molto piano molto molto lentamente perché poi se comincio di botto non ho più voglia io sono una persona che se mi impongo delle cose in maniera brutale poi alla fine non le faccio e proprio per cercare dei menù così dei menù dei piatti magari leggeri un po' creativi perché ovviamente se la bistecca ai ferri oppure la blesa o la messa sul piatto è schiattata lì non ci viene neanche voglia di mangiare e così di iniziare magari a fare un regime alimentare più leggero più bilanciato se invece presentiamo dei piatti molto carini molto semplici ma che sono gustosi dove usiamo delle spezie dove usiamo dei condimenti particolari sempre rispettando ovviamente i condimenti che sono all'interno del nostro regime alimentare possiamo così anche che ne so l'occhio vuole la sua parte diceva la mia nonna e quindi vedere un bel piatto comunque ci fa venire anche ci appassiona di più anche a cucinarlo ovviamente se ci piace cucinarlo e io vi consiglio se non la conoscete Donna Ehi Fresh and Light è un libro che io ho usato tantissimo fa parte della mia collezione di libri di cucina da un bel po' di anni e si trovano davvero delle ricettine molto molto semplici ma davvero molto semplici ma molto appaganti sia come sapore che come vista no? per esempio falafel queste le ho fatte sono buonissime quando avete magari i legumi nel vostro menù potete fare i falafel 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 non lo sappiamo di lenticchie con salsa di yogurt all'aglio e questa potrebbe essere una poi questo libro ha delle foto meravigliose su sfondo bianco così etereo così lineare così leggero che vi fa sentire più leggeri anche soltanto guardando le fotografie del libro oppure oppure pollo con sedano e pepe nero al salto con sempre una salsa allo yogurt oppure ancora vabbè il couscous io lo faccio praticamente taboulé di quinoa io invece lo sostituisco con il couscous che mi piace tantissimo con dei pomodorini un formaggio di capra guardate che bello anche presentare un piatto così e quindi anche rileggere questo libro e queste ricette mi ha fatto anche venire voglia di preparare da mangiare oppure questa è buonissima torta ai pomodorini con base di polenta e questa magari potrebbe essere una ricetta che dite che possiamo fare insieme nella rubrica vi racconto una ricetta magari delle ricette sfiziose leggere adatte a questa primavera all'estate che sta tornando per ritornare in forma leggeri e belli e nulla quindi questo io è un libro che se non conoscete vi consiglio perché vabbè Donna Eifa famosissima fa di quei ha fatto di quelle ricette meravigliose io ne ho tanti di libri suoi e ultimamente si è proprio questo è un libro di qualche anno fa aspettate che ve lo dico come mi dicevo un libro del 2012 ma penso che lo possiate trovare ancora in circolazione e proprio l'autrice nell'introduzione al libro dice questa cosa non sono mai stata una fan delle diete e non mi piace nemmeno l'idea che qualcuno sia a dieta quindi questo non è un libro pensato per dimagrire per me è sempre stata una questione di equilibrio e Fresh and Light è la mia risposta agli sforzi per trovare l'equilibrio perfetto la chiave è concentrarsi sul gusto ma con un tocco più leggero lasciando spazio ai piccoli piaceri della vita e sono d'accordo anch'io con la donna che ne dite proviamo magari a fare qualche ricetta e vediamo in questo mese come proseguirà questo regime alimentare bilanciato ma cosa ci fa star meglio quando siamo giù di morale fare dei regali o farsi dei regali e io mi sono fatta un regalo due borse mi sono imbattuta in questa azienda in questa cooperativa girovagando su web ero alla ricerca di una borsa ma una borsa speciale una borsa artigianale e proprio capitando sul loro profilo instagram ho trovato questa cooperativa sociale la cooperativa sociale Samuele e adesso vi racconto chi sono ecco ho acceso la luce perché sta andando via il sole allora vi dicevo questa cooperativa sociale Samuele è una cooperativa inclusiva che crea dei percorsi per formare delle persone che poi verranno inserite nel mondo del lavoro vi leggo la loro presentazione perché è davvero molto molto bella Samuele è un tipo un po' fuori dal comune sognatore caparvio allegro altruista dinamico e intraprendente spesso un po' confusionario e disordinato di sicuro eclettico e un po' artista in molti gli riconoscono una capacità particolare sa intravedere negli altri quello che loro non riescono a vedere ama ascoltare le persone e ha una buona propensione a collaborare Samuele è una cooperativa sociale un piccolo mondo capace di guardare lontano che ben piantato nel proprio presente si adopera per la costruzione di una comunità accogliente realizzando progetti di integrazione sociale a tutela della dignità di ogni persona bella la parola dignità mi sono innamorata delle loro borse che borse meravigliose ma non fanno solo borse hanno anche un orto una piccola azienda agricola dove vendono i loro prodotti fanno anche dell'oggettistica per la casa però io sono innamorata di borse da sempre e così mi sono acquistata due borse la linea che ho scelto poi vi lascio comunque tutte le indicazioni nell'info box con il loro sito il loro profilo instagram hanno un catalogo di tutto rispetto con degli articoli meravigliosi fatti a mano e sono davvero davvero stupendi e mi piace l'idea che tutti possano creare qualcosa di bello e che tutti abbiano il proprio posto nel mondo perché è giusto che il mondo sia di tutti noi io ho avuto a che fare con delle disabilità davvero molto piccole attraverso i miei figli Mattia e Lucia loro sono due ragazzi con DSA allora Mattia e Lucia hanno entrambi sono entrambi discalculici e invece Mattia è anche dislessico e disgrafico e pur essendo nel mondo delle disabilità davvero una piccola cosa io ho provato sulla mia pelle e soprattutto mio figlio ha provato sulla sua pelle cosa vuol dire sentirsi emarginati non capiti bullizzati non soltanto da parte dei bambini ma anche da parte degli insegnanti che non comprendono o non vogliono capire che il percorso che ai giorni nostri si può insegnare ai ragazzi con disabilità di apprendimento è che la meta è quella ma ci puoi arrivare da qualsiasi strada puoi costruire un sentiero e puoi arrivarci non importa il tempo se un ragazzo ci arriva ci arriva non possiamo rimanere bloccati al fatto che tutti devono fare la stessa strada e tutti devono imparare nello stesso modo i miei figli sono stati bullizzati o comunque non capiti dagli insegnanti da persone che dovrebbero fare dei corsi di aggiornamento e capire che si può si può fare i ragazzi con tutti gli strumenti che abbiamo al giorno d'oggi possono arrivare ovunque si possono laureare possono diventare dei medici possono diventare degli astronauti nulla è impossibile a nessuno l'importante è che ci sia qualcuno che glielo sappia insegnare quindi davvero io se ci sono degli insegnanti agli ascolto vi chiedo questa piccola attenzione so che adesso ci sono davvero tantissimi e so che tanti dicono oh mamma mia adesso è diventata una moda essere di SA da parte di un genitore che ha due figli di SA sarebbe meglio che non fosse di moda ve lo dico molto chiaramente non è proprio bello e a parte questo discorso che mi fa sempre così riscaldare l'animo e come vi dicevo mi piace molto l'idea di questa cooperativa che è una cooperativa inclusiva che ha trovato un modo per dar voce a tutti e a tutte le persone che hanno un'abilità per poter fare qualcosa quindi mi piace l'idea che ci sia un posto per tutti un lavoro per tutti un modo per poter essere in questo mondo in una maniera rispettosa e produttiva il mondo è per tutti ci deve essere posto davvero per tutti io amo le diversità ma di qualsiasi genere una diversità di pensiero una diversità di religione una diversità di cultura di paese perché penso che tutte queste cose siano per me un arricchimento mi fanno conoscere delle cose che io non so e quindi mi rendono sicuramente più ricca più informata e mi fanno esplorare nuovi mondi quindi per me la diversità è davvero una ricchezza e mi rende una persona molto più umana e quindi nulla io la penso in questa maniera e le borse che ho comprato sono queste una e questa è molto semplice da portare a tracolla così no è da passeggio la definirei sono fatte in materiale che proviene dagli scarti delle lavorazioni di pellame del territorio quindi c'è anche un riutilizzo del materiale questa cosa mi piace molto e poi sono fatte davvero molto molto bene guardate come le cuciture si vedono benissimo spero di non andare fuori fuoco poi poi vi lascio sotto anche i prezzi ma non sono assolutamente cari se pensate che sono fatte a mano mi piace tantissimo questo colore verde oliva con la tracollina molto semplice in pelle color naturale e questa è e poi ne ho presa una bellissima gigantesca perché le mie morse sono così guardate che bella fatta così vedete oppure adesso vi faccio vedere si all'accia oplea all'interno così e rimane invece così è stupenda il colore lo scegliete voi il colore dei manici lo scegliete voi ci sono anche quelle che all'interno hanno una fodera ce ne sono davvero di tantissimi tipi io ho scelto la linea green perché mi sembrava quella più adatta alla primavera estate e vedete anche c'è la raffinatezza mi piace tantissimo sono fatte proprio bene 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 ebbene siamo arrivati fino a qui vi ringrazio vi aspetto nel prossimo video se siete sopravvissuti a questo che sarà lunghissimo ma è stato proprio così un modo mio per fare un piccolo bilancio vi abbraccio vi do appuntamento ad un prossimo video e vi auguro un buon fine settimana ciao ciao Ciao!